Ciao a tutti bentornati sul canale, breve video comparativo su un soggetto un po' particolare che a me piace molto sapete che anche se mi chiamo GT40 Model Works io sono effettivamente uomo Porsche, ne ho fatte credo più io della stessa Porsche ed era 935,78, tengo la scatola girata perché non ho il back di questa scatola qui quindi ne ho mezza però sono venuto in possesso di questo modello della Nitto, marca un po' LOL degli anni 80 che faceva modellini con il pacco batterie come si proponevano in quegli anni lì e il motorino elettrico dentro soprattutto dettaglio che quando lo trovate quando sono modelli giapponesi i motori elettrici che ci sono dentro sono di estrema qualità quindi è roba molto molto migliore della roba venuta dopo, diciamo che sono a livello dei motori delle Mini 4WD di Tamiya quindi è roba molto bella e simpatico anche che dentro ti danno tutte le cavetterie per farle funzionare dal pacco batterie queste funzionavano con due batterie doppia e due cavetti che andavano diretti al motore quindi la si metteva giù dritta sperando che le ruote fossero dritte, si azionava il motore e la si faceva correre dritta 90% dei casi il modello si schiantava contro il primo ostacolo, si disintegrava completamente le plastiche erano anche belle e tamugne per quel motivo lì perché dovevamo ottenere le mazzate non erano in die cast quindi io mi ricordo che quando ero bambino avevo tutte le burago in die cast martellate le distruggevo quelle macchine lì quindi non avevano una durata particolare diciamo che nel caso della Baby è rimasto un po' così perché credo che a oggi l'Italeria in pratica ristampato nella scatola della Liqui Mori, questa qui è quella che ha vinto Daytona nell'80 ha fatto lo stesso identico modello che trovate nella scatola di Ranitto che in origine era lo stampo della Esci quindi è stata la Esci la prima a fare questa 935 Baby l'unica cosa che ha fatto l'Italeria è stata quella di cambiare ovviamente il foglio Decal credo mi hanno fatto anche la Martini precedentemente, fogli Decal che in genere sono di ottima qualità vedete stampati dalla Cartograph, poi questa era la Cartograph Sere non era la Cartograph che fa le porcate dei modelli successivi e di tanta roba che si trova in giro oggi durissime, quindi ho avuto un paio di brutte avventure, però vedete anche la scomposizione dei pezzi è esattamente il modello della Esci, quello che cambia tra i due modelli è soltanto quel pezzo lì che questo qui era l'originale proprio della Esci, è un pezzo chiuso, non ha il motorino dentro invece nel modello della Nitto c'è la disposizione per fare il pacco batterie il pacco batterie che nel modello della Esci è stata, praticamente hanno messo due tappi nello stampo che hanno tolto quegli incavi dove andava il leveraggio e la rotella che gira per fare tipo frizione, per far funzionare la macchina, ecco queste sono le uniche differenze dei kit altra differenza secondo me, ovviamente un pelo superiore nel modello che vende Italiere è che le cromature terribili che c'erano nell'Esci originale, quegli anni lì si cercava neanche di farli verniciare i modelli per quelle ruote orrende lì da 935, quelli dovrebbero essere di BBS se non sbaglio da 20 che montava la 935 però vedete che la razza BBS è completamente chiusa, i cerchi sono agghiaccianti cioè non si possono utilizzare, tanto meno le gomme, però è un problema perché 935 tutti hanno sempre montato gomme molto molto grosse, molto larghe, gomme tipo Formula 1 quindi è un po' un problema cercarne la sostituzione ecco nel modello delle Italiere invece non sono cromate, quindi quella parte lì vi evitate di doverli mettere a bagno nella candeggina o nei liquidi, quindi i dot 4, quelli che levano le cromature il trasparente è abominevole, come è giusto che sia, perché ripeto questi sono modelli che hanno 50 anni quindi 40 anni ormai però come detto è l'unica alternativa per poter fare una baby beh io non credo che siano state fatte baby Porsche più belle di questo qua o alternativi a questo qua, quindi bisogna prendere questa, una marea di foto e lavorarci da matti perché il look finale è troppo semplice, risulta troppo un giocattolo questo modello io non l'ho mai vista montata decentemente questa macchina quindi anche dai grandi del modellismo, dai grandi modellisti sempre, sempre quell'aspetto giocattoloso sempre colori del cazzo, per esempio c'è la Martini quindi questa era la baby che aveva gli spot di quel rosso quasi fluorescente nella livella non era esattamente una livella Martini convenzionale la Indycals americana di Michael Portaro ha fatto un bel foglio dei Cagliokui o l'originale Martini e l'oro c'è scritto printed in Japan secondo me l'originale da Eshi che non è male perché gli Eshi erano comunque fatti da zanchetti quindi il foglio è sicuramente buono però ripeto è proprio il modello in sede della baby che andrebbe rivisto perlomeno le ruote perlomeno per farla con un setup completo se vedete le foto delle baby originali erano molto aggressive non era un plasticone, era un Porsche con i cazzi suoi quindi di quelle sottopotenziate per i regolamenti e tutto quanto però era una 935 quindi non era un giocattolone quello che tutti sbagliano anche qua nel modello della Eshi anche tanti famosi modellisti facciamo le scale 1.8, 1.5, 1.4 cazzo sbagliano tutti il parabrezza di sta macchina quando vedete la forma se vedete com'è il parabrezza di una 911 di quegli anni lì è diverso l'unica che ci ha un po' beccato sono state la Fujimi e soprattutto la Tamiya con i modelli recenti la Turbo 78, quelle macchine lì se vedete la bombatura del tetto delle 911 per quanto la baby fosse un po' modificata quindi è vero che tutto il montante posteriore tutta la parte posteriore era un pezzo diverso però il frame del parabrezza questa arcata qui, questa rimane uguale cambia solo nella 925-78 finale che aveva un'angolazione leggermente differente e quindi anche il parabrezza diventava per modi aerodinamici angolato diversamente quindi cambiava però non era certamente fatto in questa maniera qua dettagli sono poverissimi non c'è nulla quindi avete un body questi sono modelli che se li trovate ha senso pagarli veramente un tozzo di pane perché se proprio la volete fare vedete anche tutte quelle parti lì controventature che erano aperte nelle baby quindi tutta roba da aprire, da modificare c'è un lavoro da fare che è come fare un modello in resina quindi la difficoltà è la stessa con la genericità di un modello in plastica che trovate anche alle sagre di paese però come detto se volete una baby Porsche da mettere in collezione di più se la volete con la Livrea Martini anche i taleri l'aveva fatta la Livrea Martini la strada è questa quindi non si scappa vedete che sulla stampata lì c'è ancora la copertura fatta dai taleri sul logo della Esci niente di male voglio dire tra non averla e averla riproposta così va bene non costa una taglia perché era un modello che io se non mi ricordo male costa un modello da una trentina di euro quindi ci sta però voglio dire dovessero farla con i day cast l'ammazzano subito cioè è roba troppo vecchia per essere proposta e soprattutto montata con fini di collezionismo serio fini di partecipazione ai concorsi a un certo livello con questa fate veramente fatica vedrò quando la farò questa è l'intenzione di farla non so quando però una baby con la Livrea Martini io la devo assolutamente fare e questo è quanto e grazie alla prossima